Vanda Nara lascia Twitter. È la stessa fidanzata di Mauro Icardi ed ex moglie di Maxi Lopez ad annunciarlo, con quello che sembra essere l'ultimo cinguettio. Lascio Twitter perché arriva il momento più importante della mia vita e voglio pensare solo a questo e ai miei figli, grazie per tanto amore. Il riferimento è al matrimonio con l'attaccante dell'Inter previsto per giugno e i figli sono quelli avuti da Maxi Lopez, che proprio nei giorni scorsi aveva sottolineato tutto il suo fastidio per le foto dei suoi figli, spesso pubblicate dallo stesso Icardi o dalla ex moglie.